Le partite vengono descite dagli episodi, noi non siamo fortunati perché le ultime 5 partite ci mancano sbagliati rigori, non è tanto per lamentarci quanto semplicemente perché vogliamo il nostro, il rigore sull'Anglubi è farlo netto, amoroso, così come il rigore di Cesena, così come il rigore di Modena, così come il rigore col Palermo. La discorso non è che sto qui perché la squadra ha fatto una buona partita, soprattutto il secondo tempo, riuscì dalla distruzione, eravamo già entrati in campo con un punto diverso, abbiamo creato tanto presente al gol, ci si è messa anche la sfortuna oggi, comunque tutti i rimpalli hanno 22, un'area di rigore, ci è mancato forse anche un pizzico di cattivare a più in certi momenti, però poi credo che, come ho detto prima, se ci sono situazioni solari come quella di Granlubi, che alla fine poi abbiano un peso specifico all'interno di una partita e di un cantonato fondamentale. Anche perché se la ricordi deve dare anche l'escursione, quindi se vanno le notte. Secondo me gli è passato per la destra sbagliate cose, a parte però, il fatto che comunque aveva già spulso il cristiano, ha fatto probabilmente un errore sui numerori. Non lo so, non c'era a richiedere alcuni, insomma, anche perché aveva la visuale, insomma, abbastanza perfetta, non abbastanza libera, insomma, la visuale era perfetta. Non l'ha fischiato, quindi niente, la partita è finita da 0 a 0, abbiamo avuto anche, come ho detto prima, 3 o 4 situazioni abbastanza favorevoli, non siamo riusciti a sfruttarle, sicuramente nel primo tempo siamo entrati in campo molto contratti, abbiamo fatto un po' di fatica. Soprattutto la seconda parte del primo tempo, perché la prima comunque non avevamo iniziato male, poi ci siamo un po' allungati e la maggiore fisicità del Varese, perché comunque loro cercavano sempre, e sta giocando all'ora su Pavoletti, che difendeva un palla molto bene, facendo salire la squadra, ci siamo in sicurezza difficoltà. Poi nel secondo tempo invece siamo andati a prendere un po' più alti, questo avveniva meno, abbiamo forciato il campo, come ho detto, insomma, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Purtroppo non è bastato, rimane comunque con qualsiasi risultato se è finita questa partita tutto ancora in ballo, è normale che noi siamo un po' ramaricati, perché per noi è un'occasione importante. è chiaro che questa occasione è stata spregata sotto l'aspetto della vittoria, della possibilità magari di essere un po' più avanti stasera in classifica, però comunque rimangono aperte tutte le possibilità, che dipenderà molto, insomma, anche dai settori di domani e da quello che succederà a Varese, per noi e sugli altri campi delle altre. Varese, misteri, mancherà rigori, l'unico in difida è l'unico che è squalificato, giusto? No, non era l'unico in difida. No, era l'unico tra i difidati che è la munizione. Se vai a squalificare, quello che ti stavo dire. Sì, anche la munizione dei due ore mi sembra... Non puoi esagerare. Però se sei difidato non vai a fare una cagata così uno che ha 34 anni. Dai, non mi sembra che gli abbia... Ora non è tutto giustificato, non mi sembra che abbia rallentato in maniera irregolare l'azione. Si è messo davanti, ma anche ha messo mani addosso al portiero, ha fatto in modo di... È stato un attimo, una frazione, una frazione in secondo. L'abito della decisione così, oggi non siamo stati fortunati con l'arte, con il Paesco. Tutto in occasione, non poteva chiaramente esimersi da despellere Cristiano, che con un fallo così clavoroso, credo che meritassi l'esposizione tutta la vita. Perlomeno il secondo fallo di mano, ma anche il primo. Lui, insomma, ha fatto finta anche di prendere la palla in viso, è uscito, ma chiaramente poi si vede che era male. Non voglio chiudere il discorso arbitrale, perché comunque, come ho sempre detto, non è che farlo troppo io dell'arbitro, però nell'ultimo periodo, diciamo che le partite nostre si sono decise anche per certe situazioni che non sono state viste al nostro danno. Grazie. 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 Grazie.